Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Beautiful Italian Language and Culture. Qui potrete imparare nuove parole in italiano. Oggi vediamo i dolci. Ripetete dopo di me. Siete pronti? Cominciamo! Il tiramisù La crostata alla marmellata La crostata alla frutta La panna cotta La torta al cioccolato Il budino Il cono gelato La coppa gelato I pasticcini La ciambella I biscotti I biscotti Il cannolo siciliano Il panettone Il panettone Il pandoro La panna montata La panna montata Il cioccolato I cioccolato I cioccolatini I cioccolato Le caramelle I cioccolatini Le caramelle la liquirizia lo zucchero filato la frutta candita il lecca lecca per oggi è tutto ricordatevi di darci un pollice in su se questo video vi è stato utile e se volete vedere altri video ricordatevi di iscrivervi al nostro canale sarete sempre benvenuti e mettete qual è il vostro dolce preferito nei commenti ciao ciao e alla prossima ciao 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 ciao